Sarà un messaggio spirituale quello che la diocese di Fano, Fossumbrone, Cagli, Pergola lancerà il 17 aprile in occasione del Giubileo della Misericordia. E noi oggi siamo andati al padiglione d'ingresso dell'ospedale di Fano dove è iniziato l'allestimento con la fissione delle bandiere della città del Vaticano. All'ospedale Santa Croce di Fano, come vedete alle mie spalle, sono iniziati i preparativi per la cerimonia prevista per domenica di apertura della Porta Santa. Siamo insieme a Don Marco Polverari. Come mai è stato scelto proprio il noso comio fanese? Per vivere la misericordia in un luogo, bisognava pur sceglierlo, ecco un luogo. E allora questo ci sembrava abbastanza adatto anche per come è ubicato, per come si presenta, per una celebrazione comunitaria. Questo messaggio di misericordia nel quale verrà aperta anche la Porta Santa, sarà ricco anche di segni. Ci ritroveremo in fondo al viale per dare inizio a questo pellegrinaggio, l'apertura della Porta Santa implica sempre un cammino penitenziale. Avremo la possibilità di passare attraverso la porta, chiamiamola così, della ferialità, dove passa ogni sofferenza, ogni pena, dove generalmente si entra. Lì ci fermeremo un po', sosteremo per comprendere cosa significa il passare attraverso quella porta. Poi ci porteremo di fronte alla porta che abbiamo dato, ecco le prerogative di essere Porta Santa, che sarà il cancello dell'ospedale, verrà aperto, ecco per quella sofferenza a quale Cristo si rende presente, non la toglie, non la spiega, ma l'accompagna. Sarà questo entrare attraverso questa porta e celebrare insieme con Cristo qui in questo bellissimo ambiente, ecco l'Eucarestia. Ricordiamo che sarà aperta dal nostro Vescovo Armando Trasar. Sì, 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 sarà la presenza del suo eccellenza Monsiglio Vescovo che precederà tutta la liturgia, insieme con lui i sacerdoti concelebrandi, i sacerdoti della città, credo della Diocese, una cosa la quale il Vescovo tiene molto e che noi abbiamo accolto con molto entusiasmo. Questa cerimonia che avrà inizio alle ore 16 si concluderà con un momento conviviale? Sì, c'era un momento allestito nei giardini qua di fianco, per intenderci nella zona dove c'è la sala di Padre Pio, avremo modo di stare insieme, ecco così, in maniera fraterna, prendendo un piccolo aperitivo e aglietterà il tutto sin dall'inizio anche la banda città di Fano che ringraziamo cordialmente.